Come anticipavamo, oggi padre Rinaldo ha leggermente superato il confine del suo orto ma ci ha restituito un'immagine bucolica davvero molto bella del resto in sintonia con quanto stiamo per dire adesso perché oggi 20 aprile, lo anticipavamo in apertura celebriamo la giornata della transizione energetica il Green Energy Day fortemente voluto dal coordinamento Free e noi siamo felici di avere in collegamento con noi Attilo Piattelli, presidente del coordinamento Buongiorno dottor Piattelli Buongiorno, mi sentite bene? Forte e chiaro, grazie per la sua disponibilità proprio nel giorno in cui appunto celebrate questa giornata molto importante a tutela dell'ambiente, quindi sarete anche molto impegnati per cui apprezziamo molto la vostra disponibilità dunque come si svolgerà questa giornata così bella e importante? Ma allora, intanto grazie per l'attenzione proprio perché lo scopo dell'iniziativa è quello di richiamare l'attenzione sulla necessità della transizione energetica noi abbiamo organizzato degli impianti aperti ai ragazzi, al pubblico a tutti coloro che fossero interessati, proprio per farli conoscere visto che c'è secondo noi molta disinformazione sugli impianti a fonti rinnovabili e anche sulle tecniche di efficienza energetica quindi questo è proprio uno scopo formativo e di avvicinamento di tutti quelli che volessero alla transizione energetica noi abbiamo organizzato molti impianti distribuiti in tutta Italia di tutti i tipi, ci sono impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici a biogas, biomassa, quindi veramente di tutti i tipi distribuiti su tutto il territorio nazionale quest'anno ne abbiamo più di 50 questa è la prima iniziativa e ovviamente seguiranno iniziative nel corso dei successivi anni vogliamo fare una ricorrenza annuale di questo evento in maniera tale che sempre più sia facile avvicinarsi agli impianti, a fonti rinnovabili e a quelle che sono le esigenze della transizione energetica Del resto c'è anche un bellissimo portale che avete realizzato proprio per accompagnare i fruitori dell'iniziativa ad avere non solo maggiore consapevolezza dell'iniziativa stessa ma anche a scoprire quelli che sono gli impianti aperti il sito è Green Energy Day lo stiamo vedendo grazie all'aiuto della regia tra l'altro un sito dinamico vediamo anche questo movimento che è molto bello se scorriamo un attimo in basso c'è anche la videomappa attraverso la quale sono geolocalizzati i vari impianti visitabili e poi ancora più sotto adesso con l'aiuto della regia lo andremo a vedere tutti quanti insieme nel frattempo chiedo ecco al dottor Piattelli di commentarci la varietà degli impianti che si possono visitare dal agrofotovoltaico alla biomassa al biogas al fotovoltaico a tetto piuttosto che all'eolico insomma carissimo presidente sono tanti i modi per essere più sostenibili oggi dobbiamo solo crederci fermamente e essere consapevoli come diceva lei ma sì questo è proprio un avvicinamento a questi impianti da tutti i punti di vista perché spesso se ne sente parlare molte volte si hanno tantissime preoccupazioni ingiustificate a nostro parere quindi la conoscenza e l'avvicinamento a questi impianti a capire come sono fatti come possono essere progettati e anche al fatto che il loro impatto effettivamente non sia così problematico come spesso si dice secondo noi aiuta molto la comprensione su questo percorso di transizione energetica che ricordiamolo a tutti è comunque obbligatorio e penso che ormai su questo non ci siano dubbi ma poi oltretutto è anche interesse comune per una questione non solo legata ai cambiamenti climatici ma anche legata alla riduzione dell'inquinamento Molto bene Allora noi vi auguriamo una buona giornata della transizione energetica Voi dove siete stamattina esattamente? Oggi ci siamo riuniti tutti a Taranto proprio per il lancio di questa iniziativa perché Taranto secondo noi e la Puglia in genere è sempre stata una regione interessante per le rinnovabili e Taranto in particolare è un punto di incontro fra quella che è l'industria anche l'industria pesante è quella che può essere il futuro un futuro di rinnovabili di possibilità di hub per l'eolic offshore in Italia quindi c'è il primo impianto eolico offshore realizzato in Italia nel Mediterraneo e quindi per questo motivo abbiamo deciso di scegliere Taranto come sede di lancio di questa iniziativa Molto bene e allora buona giornata a voi speriamo di risentirci anche a stretto giro per capire come è andata e magari per seguire più da vicino il mondo della transizione energetica carissimo Presidente io la ringrazio per essere stato con noi stamattina per averci dedicato qualche minuto e invito tutti i nostri telespettatori a visitare il sito greenenergyday.it buona giornata grazie a voi e buona giornata a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti